Buongiorno, ben trovati a questo venerdì, la nostra diretta di mattina live iniziamo questa giornata partendo dall'attualità e parlando appunto di una notizia che ieri ha fatto molto discutere, ovvero sappiamo tutti che quanto è accaduto ieri nel comune di Sant'Agata dei Goti, uno sbottamento ha causato il crollo di una parte del cimitero comunale, portando così alla caduta di più cento fra bare e anche urne funeriarie nel torrente sottostante al crostone franato. Qual è la situazione ad oggi? Ne parliamo con il nostro primo ospite, ovvero l'avvocato Alessandro della Ratta legale delle famiglie dei difunti coinvolti nel crollo. Buongiorno avvocato, ben trovato a mattina live. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, buongiorno, lei si trova proprio lì, se non erro? Dove si trova in questo momento? Sono qui davanti al cimitero perché sono iniziate le operazioni di trasloco delle salme però da parte del frontone non crollato, poi dopo stanno scendendo giù nel pallone per cercare di cominciare a recuperare anche le bare dei defunti che sono purtroppo finiti nel pallone, nella parte del frontone crollato. Speriamo che queste operazioni... Esatto, in questi momenti si sta appunto cercando di dar vita a quello che è il recupero, no? Delle salme, alcune delle quali recuperate. La prima operazione che si deve fare e che stanno cominciando a fare proprio in questi momenti. Speriamo che accelerino un poco di modo che approfittiamo anche del tempo clemente che ci sta arrivando un poco. Esatto, senta Avvocato, facciamo un passettino indietro, cerchiamo di entrare proprio nel merito della questione, ieri crollo di una parte del cimitero nel comune di Sant'Agata dei Gati, come era la situazione però nei giorni precedenti al crollo? Era un evento evitabile, le chiedo? Certo, questa è una tragedia preannunciata, io lo sto dicendo a tutti che è una tragedia preannunciata, perché purtroppo c'era la consapevolezza che il crollo sarebbe avvenuto, perché la lesione che si era formata alla base di questo frontone era ben visibile, ed era una lesione che si stava allargando giorno dopo giorno, ma non c'è stato alcun intervento né per la messa in sicurezza di quel frontone, né tantomeno per il trasloco dell'esame. Quindi è una tragedia preannunciata, una tragedia di cui era consapevole chi doveva essere consapevole, cioè gli amministratori e i tecnici del comune erano ben consapevoli che sarebbe avvenuto questo crollo. Avvocato, quale sarà adesso l'iter? Diciamo anche al nostro pubblico che il sindaco ieri ha diramato anche delle... Io sono coinvolto anche emotivamente perché purtroppo nella parte che è crollata c'era anche la barra del mio papà, però ho ricevuto mandato già da molte famiglie per proporre una querela e per attivare un procedimento penale che tra l'altro già è stato attivato d'ufficio dalla procura di Benevento, con la speranza che si accertino celermente le responsabilità, perché noi riteniamo che ci siano le responsabilità. Naturalmente invitiamo il sindaco e l'amministrazione comunale a replicare e restituire una risposta testè, però volevo ricordare anche al pubblico, come stavo preannunciando prima, che il sindaco per l'appunto ieri ha diramato un comunicato di scuse ai cittadini. Certamente la situazione adesso è da risolversi. Lei adesso in che modo opererà? Posso chiederglielo? Io ho già depositato la mia querela personale ieri sera presso la stazione dei Carabinieri di Sant'Agata dei Goti. Poi depositerò le querele di tutti quelli che mi hanno nominato come proprio difensore e che sono disposti ad unirsi a questa querela. Diciamo che quello che è accaduto ieri, come ricordava lei, fa parte di una tragedia già preannunciata. Riferendomi alle sue parole da quanto lei ha detto poc'anzi. Le voglio rappresentare che il sindaco di questa città nell'aprile 2022, quindi nove mesi fa, ha emesso una ordinanza nella quale lui stesso scriveva stante il pericolo di crollo del frontone dei loculi. Quindi c'era la consapevolezza già ad aprile 2022. Siamo arrivati a gennaio 2023 ma nulla era stato fatto. Di più, durante la commemorazione dei defunti, il sindaco aveva anche consentito l'accesso a quell'area con pericolo dell'impolumità delle persone che li accedevano. Esatto, c'era comunque, vi erano in essere già delle segnalazioni che mettevano insomma in evidenza di quanto il luogo del cimitero presentasse una fragilità insomma nella struttura proprio morfologica della zona. Abbiamo ascoltato insomma quale sarà il prossimo iter. Intanto noi personalmente ma anche la nostra redazione, tutti quanti noi siamo molto vicini alle famiglie appunto coinvolte, quindi a tutti coloro che in questo momento è come se vivessero un secondo dolore, lo ha detto anche lei in questo momento. Quindi tanta solidarietà da parte nostra sperando che effettivamente possa esserci una messa in sicurezza affinché anche l'altra area del cimitero non sia oggetto di crollo. Noi lo speriamo, lo speriamo però già stanno facendo l'operazione di trasloco delle bare. Quindi stanno esumando le bare, stanno togliendo le bare dai loculi e le stanno trasportando in un'area più sicura per il momento. È una sistemazione temporanea però insomma quantomeno mettono in sicurezza quel posto. Noi naturalmente teneremo informati anche il nostro pubblico, quindi qualora lei decidesse di restituirci una novità di informazione naturalmente faccia riferimento alla nostra trasmissione. Potete contattarmi tranquillamente. Grazie, grazie davvero. Siamo tutti quanti a voi vicini. Grazie all'Avvocato Alessandro Della Ratta.